Anche se il Natale ormai è finito, The Pokémon Company ha ancora degli altri regali di Natale per me, quindi continuiamo con altri spacchettamenti Pokémon per questo video sponsorizzato direttamente da The Pokémon Company. E tra l'altro regalo molto succulento, infatti abbiamo un box di Eclissi Cosmica, 36 bustine, ma forse non sono ancora abbastanza, quindi ci aggiungiamo anche un Trainer Kit con altre 4 bustine per arrivare a un totale di 40! Siamo prima dal box o dal Trainer Kit? Io direi dal Trainer Kit, non ne aprivo uno da un po'. Vi ricordate cosa si trova all'interno? Giù sono prima aperti tanti sul canale, quindi dovreste ricordarvelo. In caso non fosse così c'è un tagliandino sull'espansione, ci sono delle carte promozionali con il logo dell'espansione, in questo caso Eclissi Cosmica, adesso ne andiamo ad aprire, e 4 bustine, praticamente è un kit per allenatori alle prime armi, per avere un po' di carte dell'espansione promozionali da poter aggiungere al vostro deck. Allora, abbiamo Fione, Polo, poi abbiamo Energia Pesca, Ospitalità di Erika, Rina, Comunicazione Pokémon, Piplap, 2, no, 3, Primplap, 2, Empoleon, 2, Belia, Telepath, Camilla, Comunicazione Pokémon, Duskal, 2, 3, Dusclops, 2, Dusknoir, per 2. Insomma, ci sono un po' di Pokémon, ci sono anche le linee evolutive, ci sono gli allenatori, ci sono gli strumenti, sono delle carte per aiutarvi appunto a rimpolpare un pochino i vostri deck, qualora siate alle prime armi e anche no. 4 bustine di Ecclissi Cosmica da aggiungere alle 36 del box, il totale di 40, diamoci dentro, partendo già subito con la prima. Espansione che tra l'altro vorrei finire, a questo punto perché ho aperto veramente tanto, tanto, tanto di Ecclissi Cosmica. Abbiamo Dirling, Golet, Dupider, Ipom, Onyx, Energia Erba, Richiamo Alleati, Dartrix, Lili alla massima potenza quando fa il cambio d'abito in Ultrasole e Ultraluna, Ubat Reverse e un Florghes Olo. Ultimamente partiamo sempre con la Olo. Stiamo prendendo questa abitudine, che assolutamente ci sta rispetto a quando facevamo la partenza soft, vi ricordate? Ah, i miei vecchi tormentoni. Seconda bustina del Trainer Kit, Psyduck, che sta un po' piagnucolando, avrà il mal di testa, quando mai? Trapinch, Oddish, Rapple, Pipla, Energia Acciaio, Tipo Zero, che bello nella notte, Ciondolo del Giro delle Isole, Erika, Cosmog Reverse, e un Ursaring su questo picco, che praticamente è più in alto del livello delle nuvole, che fa queste pose da allenamento. Io sbavo, io sbavo per queste carte. Andiamo ad aprire la terza bustina del Trainer Kit, 4, 5 e 6. Pessimian, Rowlet, Lillipop, Screlp, Pikachu, Energia Acqua, Rafan, Primplap, Pietra Ultracreatura, un Magnemite Full Art, però olografico e basta, con tanto di luogotenente surge dietro, e un Wall Rain, guardate, in questo stile molto 3D, molto carino, devo dire. Bene, abbiamo trovato anche una Olo di quelle Full Art, che ascono da questa espansione, ne avevo già un bel po', non mi ricordo se L.T. Surge e il suo Magnemite lo avessi già, credo di no, quindi meglio, meglio, l'obiettivo è trovare anche carte che non avevo ancora. Partiamo con Flabebe, Senshiro di Alola, Ponita, Sankern, Cosmog, Energia Fuoco, Tro, Tengroth, Lilia alla massima potenza, Golulk Reverse, e un Mimikyu di Pongo, che bello, su queste mattonelle, veramente, veramente, crino. Bene, Trainer Kit aperto, passiamo al box. Una fila, e poi prenderemo l'altra. Iniziamo da quella di sinistra, con questo pack, con Blastoise e Piplup. Quanta Ecclessi Cosmica, tantissima. Prima bustina del box, Ubat, Ducklet, Elioptile, Cosmog, Slagma, col PNG, Energia Fuoco, Akamo, Rotom, bellissimo, Tipo Zero, Natureverse, e vabbè, oh, oh, cosa, scusa? No, vabbè, no, vabbè, no, vabbè, ragazzi, ma è bellissima, ma è bellissima! Archeus di Alga e Palkia GX Ultra Full Art Alleati, nella versione Statua? Ma è fantastica! No, ragazzi, scusate un secondo, eh. No, vabbè, mi sono innamorato, mi sono innamorato. Una delle carte più belle che io abbia trovato negli ultimi mesi, se non negli ultimi anni, la metto un attimo qua, la devo slivare adesso, ma, oh mio Dio, che bella! Bella, ma bella da morire! Io mi fermerei già qui, guardate! Cioè, sono già soddisfatto! Seconda bustina del box, quella era la prima, ci credevate? Trapinch, Snizzle, Spiol, Miao di Alola, Ralts, Energia, Camille e Catlina, Clefairy, Ambipom, Drill Bull Reverse, e un altro Mimicu, esattamente come quello di prima. Intanto io qui sto registrando diversi video di pack opening, di Pokémon, tutti di seguito, e si stanno iniziando ad accumulare pile, pile, pile di carte. Che bello! E poi, chi pulisce? Durarus Usama, 4, 5, 6. Pessimian, Rowlet, Lillipop, Screlp, Pikachu, Energia Eletro, Probopass, Iglybuff, Pyroor, Flabebe Reverse, e un Macargo. Ok. Questa bustina è molto soft. Dopo aver trovato la carta di prima, che ce l'ho qui di lato, ogni tanto le butto un occhio, perché è veramente troppo bella. Posso fare un video di 10 minuti dove la guardo e l'ammiro? Mi piacerebbe. Snorant, Koffing, Drillbur, Swirlix, Cricketot, Energia Erba, Absol, Flareon, Pattinatrice, Steelix Reverse, che bello! Con questo tramonto... no, è un'alba, è un tramonto. È un'alba o un tramonto? Boh, decidetelo voi. E un Mac di Alola, come l'avevamo trovato anche nello scorso video, bellissimo, che ha trovato qualcosa di sbrilluccicoso in un bidone dell'immondizia. C'è una cosa che adoro, è vedere i vari atteggiamenti e comportamenti dei Pokémon, secondo la loro indole. È meraviglioso. È una delle parti più belle e più profonde dei giochi Pokémon, e non di tutto il panorama Pokémon. Oddish, Rufflet, Piplup, Ulpixalola, Rockraff, Energia Elettro, Pigknight, dietro questo tronco cosa sta facendo? Non lo so. Zenguse, guardate che stile molto grezzo nella pittura di questo artwork. Gloom, Puncham Reverse, è un Magneton Olo, abbiamo trovato un'altra Olo. Very nice. Ciao, carta di Arceus, Falchia di Alga, come stai? Tutto bene? Non so che dopo il video ti guarderò per diversi minuti. Pikachu, Stuffol, Ponyard, Lit Leo, Copping, Energia Erba, Torkoal, Ambipom, Amo di Suiren, guardate che bello stile, Wheezing Reverse e un Sylveon, una delle mie Evolution preferite. Peccato perché molti dicono, quella che mi piace di meno, troppo femminile. Ragazzi, è di tipo Folletto, dovrà pur rappresentare il tipo Folletto in ciò che il tipo Folletto vuole rappresentare. No, il tipo Folletto cosa vuole rappresentare? La Grazia, un po' di Ghingeri, un po' di Grigori, queste cose qui molto graziose, un po' femminili oserei dire. Quello deve rappresentare, ed è bello per quello perché ci riesce la grande. Tangela, Duskow, Timple sotto la pioggia, Fatta Maglia, Adoro, Piplap, Cosmog, Energia Acqua, Kirlia, Pattinatrice, Cleferi, Magneton Reverse e Charizard e Brakes and GX Alleati. Oh yes, che bellezza che è, bellissima. Abbiamo trovato due GX e una Olografica, ma l'Olografica l'avevamo trovata all'interno del Trainer Kit, quindi per adesso nel box doppia foil più due Olo, se non sbaglio. Una Olo l'avevamo trovata nel Trainer Kit, ah, mi sto confondendo, va bene. Ponyta, Sankern, Cosmog, Psyduck, Trapinch, Energia Psico, Toggedemaru, Acchiappa Pokémon Potenziato, Probopass, Lillipop Reverse e un Raichu. Raichu con sfondo una città dei grattacieli nella notte. Bellissima, cavolo, questa sì che è una bella carta. Ci sono alcune carte che tra l'altro io non mi ricordavo affatto, anche perché ormai da Eglisti Cosmica è passato un pochino di tempo, non troppo, ma un po'. Poi non è che abbiamo una memoria così... Così forte, anzi, tutto il contrario. Mi fa piacere rivedere queste carte che per la maggioranza non mi ero neanche spoilerato all'inizio. Spial, Passimian, Rowlet, Lillipop, Screlp, Energia Lotta, Cricketune, in questo bosco dove trapelano i raggi del sole. Delmice, Ciondolo del Giro delle Isole, Ducklet, con questo cielo e queste rocce, Reverse, e un Weavile su un albero completamente frizzato. Abbiamo quasi finito la prima fila, quasi, insomma, un parolone. Quattro, cinque, sei. Abbiamo Whalmer, Ponyard, Toggedemaru, Trapinch, Flabebe, Energia Acciaio, Tropius, Mimikyu, Pokebambola di Livia, Gallade Reverse, e un Togepi, Cleppa, Iglybuff, GX, Alleati. Quanta tenerezza da questa carta. 240 HP, panico rotolante, paffutezza suprema GX. Oh mio Dio, che bellezza. Siete degli amori, sì, sì, sì. Soprattutto Togepi, ho sempre avuto un debole per Togepi, per Togetic. Poi mi hanno rivelato Togekiss, e Lars ha avuto un piccolo attacco di cuore per la troppa bellezza. Quattoni, Raulet, Fentamp, Grimer di Alola, Magnemite, Energia Psico, Dusclops, Larvesta, Floette, Sandygast, Cradily. Cradily, basta. Certe volte vado avanti a oltranza, non ci sono altre carte dopo la reverse e la rara. Apriti altre bustine, no? Cinque, sei. L'ho fatto un po' male il tricco, sbaglio, oddio. Snorant, Koffing, Drillbur, Swirlix, Cricketot, Energia Fuoco, Ciondolo del Giro delle Isole, Kirlia, Pattinatrice, Bulpix di Alola Reverse, e un Heliolisk che avevamo già trovato in altri video. Insomma, è Clessi Cosmica, come vi ho già anticipato prima. È da un po' che la stiamo aprendo, ne abbiamo aperti tanti, no, di box, credo questo è il terzo. Adesso non vorrei dire una cavolata. Wubat, Ducklet, Swirlix, Grimer di Alola, Slagma, Energia Erba, Dartrix, Cosmoen, che dorme, che bello che è. Mawile, con dietro un Jigglypuff e un Baneri, si evolve in... Dai, veramente non mi sta venendo l'evoluzione di Baneri, inizio a far Cileca. Lopanni, Lopanni. Sfial Reverse e un Gallade. Olo, che bellezza. Ragazzi, questa mia memoria che inizia a fare Cileca, poi sulla quarta Gen, che l'ho spolpata. Ci ho messo qualche secondo per farmi vedere in mente Lopanni, incredibile. 3, 4, 5, 6. Rapplet, Oddish, Rax, Sandygast, Sfio, Energia Lotta, Rosso e Blu Alleati, Cricketune, Delmais, Misti e Lorelai Alleati, e un Wheezing che avevamo trovato anche prima. Reverse, se non sbaglio, non Olo. No, no, era Reverse. Questo me lo ricordo. Ogni tanto, la mia memoria a breve termine fa anche il suo lavoro. 3, 4, 5, 6. Dupider, Ipon, Onyx, Tepig che dorme, Sancheru di Alola, Energia Folletto, Heracross, Araquanid, che stile grezzissimo, colori molto macabri. Tro, Zwirlix Reverse e un Empoleon. Questo esce anche dal deck, con la stessa artwork. Era dal deck, se non ricordo male. Meglio non dire cose basate sulla memoria, che il 90% delle volte sono castronerie. Onyx, Whale Mare, Pulpitoed, Cricketod, Ipon, Energia Buio, Tangrowed, Primplup, anzi, Primplup, Anorith, Raichu Reverse e un Braviery, in una posizione un po' strana, cioè sta volando tipo a dorso. Ok. Ultime due bustine della fila di sinistra, quindi sono la diciassettesima e la diciottesima. Passiamo alle altre 18, 4, 5, 6. Abbiamo Ponita, Crab Roller, che ho avuto nel mio team. Carvania, Chinchou, con questi colori molto tenui. Azzuril, fatto a maglia. Energia Psico, Akamo, Rotom, tipo 0. Ma che bella! Oh mio Dio, che bella! Coffing con Velia, sono... Oh mio Dio. E la Holo Full Art, ma è bellissima. Completamente violacea per le luci della palestra, che è tipo un locale in cui suonano, lei e il suo gruppo. E dietro abbiamo Oricorio GX. Ma salve, che non avevo, quindi molto contento. 170 HP, danza del tributo alla tagliente e mitragliare GX. Ma guardate che belle due cartine che abbiamo trovato qui. Very nice. Ultima bustina della fila di sinistra, che si è rivelata molto soddisfacente. Che sa la fila di destra. 4, 5, 6. Abbiamo Natu, Palpitod, Jengmo, Dirling, Gollet, Energia Erba, Floet, Belia, Erdier, le carte mi se ne vengono via da sole. Jengmo, Reverse, e un Graudon, che bello. Graudon, Terra Tremante, se non sbaglio questo c'è anche nel deck. Non mi ricordo. Sì, mi sembra di sì, perché due degli ultimi deck erano quelli con Graudon e Kyogre dentro. Sì, 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 me lo ricordo. Infatti ho letto l'attacco perché avevo fatto anche un paio di partite con quei deck. Fila di destra. Ultime 18 bustine. Ne abbiamo aperte 22 fino ad adesso, contando anche il Trainer Kit. Quindi oggi apertura giga enorme. E si va. Cinchu, Cosmog, Pancham, Drillbur, Tangela, Energia Elettro, Cleferi, Pigknight, Zengus, Mimikyu, con la sua capopalestra, di cui adesso purtroppo mi sfuggerò è Malpi. Ok, mamma mia. Full Art, Olo. E dietro un Palosand. Questa molto bella. Grande trovata a mettere queste carte. Grande trovata. Quindi tanto lo fanno, no? Vi ricordate tipo le Iridescenti o le Prisma che c'erano nel 2018? Molto molto belle queste trovate. Quattro, cinque, sei. Wubat, Ducklet, Elioptile, Cosmog, Slagma, Energia Buio, Velia, Erdier, Tangrowth, Trapinch Reverse e un Gaslord Olografico Ultra Creatura. Gaslord non piace praticamente quasi a nessuno. E, indovinate un po', invece, a me piace. Ma che quando mai? Quando mai, Delarzo? Non vai contro corrente tu, sempre. Eevee. Flabebe, che si ripara dal temporale sotto il fiore. Che cosa cute. Sneasel, Natu, Trapinch con un fiore nel deserto. Molto, molto bello. Energia Acqua, Gloom, Silio, Bisharp, Velia Reverse e un Trevenant. Io adoro Trevenant. Quanto è bello Trevenant, ragazzi. Qui, invece, non mi trovo un po' in disaccordo con gente, perché so che a molti piace e anche a me. L'avete visto? Ogni tanto mi so anche aggregare i gusti altrui. Non sono così antipatico. Eevee, Duscal, Timple, Flabebe, Sanshri Walola, Energia Folletto, Misty Allorelai, Primplap, Enric, Allestimento del Professor Rock Reverse e un Emboar, che mi sembrava Olo per un secondo, ma invece non lo è. Io devo iniziare a fare un'altra pila di carte qui, perché le due che stavo facendo con tutte le comuni sono diventate praticamente altissime e tra poco mi crolleranno addosso. 3, 4, 5 e 6. Dupyder, Elioptile, Carvagna, Tepig, Togedemaru, Energia Acciaio, Probopass, Iglibab, Pyror, Jangmo e un Lanturn. Ok. Anche qui stiamo andando belli spediti, molte carte le abbiamo già trovate non solo in questo video ma anche in altri video, quindi le ho già ammirate per benino. Quindi stiamo andando belli spediti e questa è la cosa bella di poter aprire tanti box della stessa espansione. Tangela, Duskol, Timpol, Piplup, Cosmog, Energia Acqua, Malissia e Fantasilvestro. Questa non l'avevo, quindi ottimo. Dusclops, Larvesta, Energia Pesca Reverse. Come scusami? È un... Ok, abbiamo trovato quella Ultra Full Art fuori serie subito dopo quella normale. Infatti tipo ho detto cosa, cosa, cosa? Stessa carta? Ho realizzato con un secondo di ritardo. 271 su 236 è una fuori serie ed è meravigliosa. Ma che box ragazzi, che bellezza. Prima la carta alleati di Archeos, Falchi e Dialga, poi questa. Mi manca solo l'allenatore, solo l'allenatore. Non chiedo molto. Invece, sì. Però va bene. Dai, dai, dai. Questo allenatorino. Lo troviamo questo allenatorino? Teddy Ursa, Nospas, Litleo, Flabebe, Spion, Energia Elettro, Pangoro, Rapidash, Vibrava, Kirlia Reverse, Megalopanni e Jigglypuff GX. Quindi nella carta di prima dove c'erano entrambi sullo sfondo, quella era Megalopanni. Non Lopanni, ok. 240HP, Palloncino Saltellante, Distruttori Paffutelli GX. Ma che nomi hanno le mosse GX? Bellissima anche questa e non l'avevo. Con questo box mi sto completando il set. O se non lo sto facendo ci sto andando vicinissimo. Molto contento, Dlaz, molto contento. 3, 4, 5 e 6. Però l'allenatore, io l'ho chiesto e lo voglio. Snorant, Rockcraft, Dirling, Teddy Ursa, Gollet, Energia Fuoco, Dartrix, Cosmoem, Mawile, Erioptile Reverse e un Wailord. Quante pustine? Non ne sono rimaste tantissime. Credo saranno occhio e croce 10. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi conteremo quando saranno di meno. Wailmare, Ponyard, Togedemaru, Trapinch, Flabebe, eh mi si rilangono via le carte da sole, Energia, Lotta, Pietra oltra creatura, Lailiv, Jolteon con un artwork meravigliosa, Ponyard e un Lycanrock Notte Olo che avevamo già trovato di recente. Proseguiamo in perterriti, voglio ancora trovare almeno almeno un'altra carta importante. Passimian, Jengmo, Rowlet, Screlp, Pikachu, Energia Acciaio, Heracross, Arachonid, Trow, Mimicureverse e un Sunflora. Non potete capire quante bustine aperte io abbia accumulato lì, proprio lì dove sto guardando. Stuffle, Ponyard, Litleo, Koffing, Nospas, Energia Buio, Goldak, Pino, Mimicure, Gallade con Lino, Olo, Full Art, questa l'avevo già, e un Marshadow che fa da ombra a Pikachu e fa anche... Fantastico, fantastico! Che carte, che carte belle che abbiamo! Tra l'altro ho fatto un pastrocchio qui, tra poco mi crollano tutte queste carte addosso. Siamo veramente quasi alla fine, eh? Questo video verrà bello lunghetto perché già aprire un box è lunga, aprirne 40 e un pelino più lunga. Stuffle, Rowlet, Fantamp, Magnemite, Lillipup, Energia Acqua, Pangoro, Rapidash, Vibrava, Ultra Necrotma, Olo e uno Xatu che compie questa piruetta psichica, è bellissimo. Come Arthur che mi ricordava molto le carte delle espansioni che uscivano in terza gen. Quindi parlo di terza gen, terza gen all'epoca. Che tra l'altro è la primissima pustina di carte Pokémon che acquistai, fu proprio una di terza gen. Mi uscì un gardebois. Flabebe, Snizzle, Natu, Trapinch, Spiol, Energia Psico, Chaos Gravitazionale, Tropius, Toggedemaru, Pikachu Reverse e un Ultra Necrotma, Olo. L'abbiamo trovato Reverse prima se non sbaglio e ora anche Olo. O erano entrambi Olo? Non lo so. Questa bustina non si vuole far aprire. Cos'è? È un presagio? È un presagio di qualcosa di buono che c'è all'interno? Vediamo, vediamolo subito. Vediamo? Diopider, Ipom, Onix, Tepig, Sanctuary Alola, Energia, Pietra, Ultracreatura, Lylip, Jolteon, Floet Reverse e un Raichu. No, semplicemente non si voleva far aprire. Basta. A volte non c'è niente di nascosto dietro. Siamo alle ultime quattro bustine. Vuol dire che per adesso ne abbiamo aperte 36. L'equivalente di un box. Quattro, cinque, sei. Odesh. Raflet. Piplup. Bullpix Alola. Rockraff. Energia. Acciaio. Vaporeon. Richiamo alleati. Delmais. Pattinatrice. E Palosand. Vediamo se c'è qualcosa di rimasto in queste ultime tre bustine. Se andiamo a chiudere col botto. Vediamo subito. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Dai, l'allenatore. Voglio l'allenatore. Rowlet. Fentamp. Grimer Alola. Maglimite. Eevee. Energia. Guzman e Ala. Che ho Ultra Full Art, tra l'altro. Pino. Mimikyu. Sneasel Reverse. Nagana delle Gazlord GX. Ultra Creature Alleati, 280 HP, Appetito Violento, Perforazione Jet e Ordine Caotico GX. Un'ultima carta, bella bella, l'abbiamo trovata. Non è una carta allenatore, ma mancano ancora due bustine. E io non ho contato a quanto sono di pull in questo box. Quindi potrebbe mancarci qualcosa, così come potrebbe non mancare ancora qualcosa. Natu, Pulpitoed, Jangmo, Dirling, Gollet, Energy Aqua, Gloom, Floet, Zenguze, Pipla Preverse e un Krabominable. Krabominable non l'avevo mai 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 trovato. Quindi almeno abbiamo trovato una carta nuova alla fine. Ultima bustina ragazzi, la quarantesima di questo video. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ponita, Sankern, Cosmog, Psyduck, Trapinch, Energy a Buio, Cleferi, Ambipom, Goldak, Excadrill con Rapan. Che bellezza! E un Sismithod. Va bene, chiudiamo comunque in bellezza con questa bella carta Olo Full Art. E chiudiamo anche questo video lunghissimo in cui abbiamo aperto 40 bustine di Eplissi Cosmica. Grazie da Pokémon Company per questo video in collaborazione con voi. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Bye bye!